Salutiamo da Mosca Iuri Colombo che oggi ha assistito ai funerali di Navalny, un momento molto atteso evidentemente anche all'estero per capire cosa poteva accadere attorno alla salma dell'oppositore, non solo del dissidente, ma dell'oppositore numero uno a Vladimir Putin. Tu sei stato sul posto, fuori dalla chiesa dove si è tenuta la cerimonia, le immagini sono impossibili da reperire, era proibito filmare all'interno della chiesa di Mosca dove ci sono state le esequie. Che impressione ci riporti rispetto a quello che hai potuto sentire e vedere? Le agenzie parlano di circa dai 2 ai 3 mila partecipanti e naturalmente questa notizia fa anche il giro del mondo, visto le condizioni in cui si può andare a manifestare oggi in Russia. Sì, non doveva essere una manifestazione politica, le autorità una delle due condizioni che avevano posto perché si potessero ottenere delle esequie pubbliche, che fosse una cerimonia se non riservata comunque una cerimonia che stesse dentro quei caratteri, che deve avere una cerimonia funebre e che naturalmente non ci fossero delle ulteriori analisi sul corpo di Navalny. Era difficile prevedere cosa sarebbe successo oggi perché io ho percepito nelle ultime settimane dopo la morte di Navalny molta demoralizzazione, molta paura tra la gente che conosco, tra i cittadini. Per cui c'era un po' un dubbio come sarebbero stati questi funerari. Io appena sono arrivato nella zona perché la zona si allarga un po' tra la chiesa dove c'è vicino una fermata della metropolitana e il cimitero. Ci sono circa un chilometro e mezzo di distanza. Per cui la barra dovrebbe essere portata prima in chiesa e poi avrebbe dovuto esserci una sorta di corteo fino alla tumulazione. Allora io quando sono arrivato in zona è evidente che tutto questo non ci sarebbe stato perché c'è un grande ponte che li unisce, un ponte forse di mezzo chilometro e tutto questo non ci sarebbe stato perché su tutto il percorso c'era naturalmente sui marciapiedi. C'era già pieno inondato di gente. Naturalmente in file strette come si può stare sul marciapiede. Ed è una folla, quella due ore, due ore e mezza prima dell'inizio, una folla composta soprattutto da gente comune, neanche da giovani, soprattutto da donne, tantissime donne. Tantissime donne di una certa età, famiglie, famiglie con i bambini, famiglie con i bambini che con i loro fiori in mano attendevano di poter seguire questa cerimonia. E questo mi ha subito dato l'impressione che difficilmente la polizia sarebbe potuta intervenire di fronte a della gente comune, insomma, non a dei giovanotti scapestrati, a degli estremisti, a dei terroristi. Ma questo ha dato subito la sensazione che sarebbe stato comunque, già in questo modo, assumeva i caratteri di una manifestazione politica. Perché è un conto che ci vanno 100, 200, 300 persone, è un conto se ci vanno migliaia di persone. Teniamo presente che i mass media russi ufficiali non avevano dato la notizia che ci sarebbe tenuto il funerale. Certo, funzionano i social, funzionano le catene di comunicazione, eccetera. Questo sicuramente sì, però ufficialmente. Oggi era comunque un giorno feriale in una città d'inverno e che è enorme. Per spostarsi da una parte all'altra della città è molto difficile. Quindi era anche un test sulla popolarità di Navalny? E che tipo di test è stato? Sicuramente, era un test sulla popolarità di Navalny, sicuramente c'era un tentativo. Allora, ieri tra l'altro c'è stato il discorso all'Assemblea federale di Putin. Inizialmente si volevano far tenere i funerali il 19, poi è arrivato l'ordine dalle autorità che no, che si doveva tenere il 20. Perché non si soprapponessero? Perché comunque sarebbe stato due eventi, molto più seguiti dalla stampa internazionale, quello di Navalny, che è il discorso di Putin, in cui non è stato detto niente di particolare, di essenziale, che poi avrebbe rischiato di metterlo un po' in ombra. E questo è stato subito la mia percezione. Tanto è vero che io mi sono sentito anche con te, e ti ho riportato questa sensazione che ci si trovava di fronte a un avvenimento politico. Ma quel passare del tempo, con l'aggiungersi della gente, la gente ha preso coraggio. Ha preso coraggio. Preso coraggio e ha iniziato a scandire degli slogan. E degli slogan politici, politici, no alla guerra, no alla guerra. Tipo Alex, anche lo stesso Alexei, Alexei, ma poi dopo, più avanti, più prendeva coraggio, la gente ha iniziato a gridare Putin assassino. Ha iniziato a gridare tu hai avuto coraggio, in riferimento a Alexei Navalny, ne avremo anche noi. E' un messaggio. E' un messaggio di gente che ha volto scoperto, ha volto scoperto nella Russia di oggi, e con reparti antisommossa tutto intorno, gridava e diceva quello che pensava. Ecco, quali conseguenze ci potrebbero essere per queste persone? Qualcuno ha detto, nei prossimi giorni dovremo stare molto attenti per quello che può capitare a chi ha partecipato ai funerali, ma sarà anche difficile andare a riperirle, insomma. No, attenzione. In Russia, le telecamere di ultima generazione che sono state messe in tutta la città, migliaia, hanno il riconoscimento facciale. Hanno il riconoscimento facciale, è facilissimo riconoscere, soprattutto appunto persone che erano su una piazza a viso scoperto. C'è da dire che tra le minacce che circolavano su internet da un paio di giorni, c'era questa. Attenzione ai maschi che vanno a questa manifestazione, perché quelli che sono andati a San Pietroburgo il 24, 6, sono già stati arruolati e mandati in Ucraina. Questo tipo di minacce, cioè quando si parla poi alla fine di 2-3 mila persone, possiamo fare tutte le valutazioni che vogliamo, beh, io ho visto anche, come dire, il 60-70% di donne, forse non per caso. Certo, perché sappiamo che ci sono anche manifestazioni di donne che arrivano a Mosca per protestare contro la guerra, alcune di esse sono state fermate, sono state arrestate per alcune ore, eccetera. Adesso, per concludere, che tipo di valutazione politica si può fare a questo punto? La valutazione politica è che si esce da questa giornata in cui sicuramente l'opposizione è debole, l'abbiamo già detto più volte, ma ha messo un piccolo punto, ha messo un piccolo punto a suo favore. Cioè, esistiamo ancora, esiste una parte della società civile della città di Mosca frastagliata, diversificata, non solo parte, come si diceva, di classici sostenitori di Navalny, la gioventù filo occidentale, molta di questa è già immigrata da tempo, ma ha gente comune, gente del popolo, che comunque è contro Putin, che è contro Putin in modo radicale, in modo radicale. Quello che potrà fare, chiaramente, la mancanza di un leader, la mancanza di un riferimento politico visibile, pesa, pesa e peserà. Pesa in Occidente, pesa ancora in più la Russia, che è un paese che classicamente vive un po' sui leader, no? Per cui questo giocherà un ruolo. Però, diciamo che se la partita doveva essere quella di oggi, diciamo che è stata una vittoria per l'opposizione. Grazie, Iuri Colombo, a presto. Grazie, a rivolverci.